La complessità pervade le nostre classi come del resto pervade tutta l'avventura umana. Noi possiamo vedere questa complessità come un fardello, un peso, un ostacolo, oppure possiamo decidere di vederla come un'opportunità educativa e di apprendimento. Questo è lo sguardo che pervade tutto il webinar sull'insegnare nella classe complessa. Questo webinar si apre con una unità di lavoro sul clima di classe. Parleremo quindi di emozioni, di relazioni, vedremo insieme alcune attività che concorrono a strutturare il clima, tenendo sempre ben presente che sono gli insegnanti che operano su questa classe a determinare in larga parte il clima di apprendimento e il clima relazionale ed emotivo. Ecco quindi una sfida nella sfida.